Buonasera e ben trovati a un nuovo appuntamento con focus unica talk per questo momento di approfondimento nostro ospite è max bevilacqua direttore del consorzio di cooperative solco di sondrio e autore di un libro che ora ci presenterà buonasera max buonasera allora vediamo subito il video che presenta il tuo libro la cooperazione come possibile il sistema di una comunità locale e Grazie a tutti. A cosa c'entrano la cooperazione sociale e la comunità locale con gli alberi, la musica blues, alcune leggi della fisica e i droni? In realtà la domanda è alquanto strana, ma all'interno di questo libro, dentro una storia e dentro un percorso, abbiamo provato a rifletterci e a porci alcune domande. Io sono Max Bevilacqua, cooperatore sociale della provincia di Sondrio e questo è un delicato e caloroso invito alla lettura di questo libro. Ecco Max, in questa presentazione illustri i punti principali di questo libro, in cui una cosa mi ha colpito in particolare, quando dici che il cooperatore sociale ha un'anima blues. Io ti conosco, so che i riferimenti alla musica nella tua vita, direi, sono più di uno, ma in questo caso colpisce, insomma, l'anima blues. Sì, la musica è davvero parte della mia vita e penso che questo libro sia anche un po' intriso, diciamo, di questa forma d'arte, di quello che in pratica mi ha dato nella vita. In questo libro ho provato a fare un esercizio, cioè, che è stato molto sfidante, cioè ho provato a guardare la realtà che mi contraddistingue e a raccontarla in modo diverso, no? Anche guardandola da altre prospettive. Io sono una persona che lavora nel sociale da tanti anni, più di 25, lavoro nel campo della cooperazione sociale, però, come dire, a un certo punto la sfida di questo libro, che è un libro che racconta, diciamo, la mia storia e lo fa in maniera anche molto semplice, secondo me, aprendo domande e provando a creare degli spazi in cui dialogare con ciò che accade, diciamo, nel mio mondo, nel mio essere operatore sociale, la musica era un filtro interessante con cui guardare la mia storia e la storia, diciamo, di quello che è il mio mondo, quello della cooperazione sociale. Perché dico che la cooperazione sociale, ma io dico anche in generale, no? Il mondo degli operatori del sociale hanno un'anima blues. Perché il blues? Come dice Jimi Hendrix, che è un grandissimo punto di riferimento per me, lui dice che è la musica più facile da suonare, ma è la musica più difficile da sentire. E quindi, secondo me, il cooperatore sociale, l'operatore sociale è un'anima blues perché lavora su delle tematiche molto profonde. Ci occupiamo di sociali, di problematiche della società, di bisogni irrisolti di persone, di famiglie che sono in difficoltà e lo facciamo con un sentire altissimo, no? E ho trovato il paragone con la musica blues perché la musica blues nasce, come dire, alla fine dell'Ottocento in America ed è la voce che esprime la malinconia, il disagio, anche, come dire, la sofferenza di un certo tipo di popolazione, quella dei negri, diciamo, che erano comunque in condizioni, diciamo, di schiavitù. E però ha una forza talmente elevata che riesce a diventare la musica suonata così semplicemente, da cui poi nascono e si gemano gli altri generi musicali, il rhythm and blues, il rock and roll, il jazz, la musica folk, hanno comunque delle radici nel blues. Quindi il nostro, la nostra è un'anima blues che ha un fortissimo radicamento, ha dei valori, che però, dico nel libro, ha bisogno di trovare una forma espressiva, ha bisogno di uscire, ha bisogno di un palco, no? Cioè, paradossalmente il blues poi diventa popolare quando nasce il rhythm and blues, il rock and roll, Chuck Berry, ok? Che tra l'altro dice, uno degli inventori della musica rock and roll, dice che il blues non è solo una questione di genere musicale, è proprio una condizione in cui noi siamo, no? Lui dice, c'è un blues suonato e c'è un blues che è l'anima con cui uno compone e canta la canzone, no? Questo stare da soli a guardare il cielo blu, ok? Blu è il colore, diciamo, anche dell'anima, sentire delle sensazioni e portarle fuori, no? Lui dice, anche Frank Sinatra a un certo punto fa delle cose blues, ha un'anima blues, no? E per me questa cosa è stata illuminante, quindi è un punto di partenza, è un esercizio, se vuoi, anche di sguardo da un'altra prospettiva del nostro mondo, ma che è pieno di stimoli. Poi parlo del jazz come evoluzione, ma mi fermo qua, se no vado avanti al transe. Però, come dicevi, quest'anima blues, insomma, deriva oppure precede il fatto che un operatore sociale, un operatore di una cooperatore sociale, ha a che fare con sofferenza per lo più, perché mediamente chi, insomma, chi lavora con voi, chi si rivolge a voi, ha delle difficoltà di qualche tipo. Come fai a staccarti, cioè, quando l'anima blues si ferma per lasciare fiorire quelle cose che dicevi tu, no? Sì, è vero, noi ci occupiamo prevalentemente di persone, come dire, che in qualche modo hanno delle difficoltà. Se ti devo dire, i grandi temi sono, per esempio, non so, per quanto riguarda la cooperazione sociale di tipo B, tutto il tema del lavoro, cioè, del dare opportunità di lavoro a chi senza organizzazioni come le nostre non l'avrebbe, ok? Quindi persone svantaggiate come altre fasce di popolazione, famiglie, anziani, giovani, persone che hanno avuto problematiche di un certo tipo che in qualche modo ha bisogno di interventi, di cura, di, come dire, di costruzione, di soluzioni a delle condizioni, come dire, che rischiano anche, o sono già in situazioni di, diciamo, difficoltà conclamata o sono a rischio di scivolamento. Quando possiamo uscire da questa condizione? Secondo me è quando riusciamo a fare quello che si fa in un atto creativo, diciamo, no? Cioè, quando riusciamo a guardare le cose con il distacco che serve per poter poi non farti completamente travolgere dal problema, perché l'altro poi ti può assorbire, ok? I problemi sociali ti possono assorbire, ti possono anche paradossalmente annullare, la estremizzo molto, eh? Cioè, serve un esercizio di distacco, come dire, in cui guardare le cose, ed sono le volte i migliori in cui troviamo le soluzioni anche più creative, più innovative per i problemi. E lì, in qualche modo, è come se sentissimo la vibrazione blues, ma ci mettessimo in una condizione di creazione in cui ci prendiamo uno spazio di libertà e immaginiamo. Per questo parlo del jazz nel libro, perché il jazz è un'evoluzione interessante rispetto all'anima, alla condizione del bluesman, no? Perché il jazzista conosce una tecnica, la padroneggia, ok? Poi la suona con gli altri e improvvisa. Si apre spazi incredibili di libertà, per cui tu, quando ascolti un brano jazz, specialmente in cui c'è molta improvvisazione, sai dove inizia, ma non sai dove finisce. E quindi, io dico, dobbiamo gezzare un po' di più i processi, dobbiamo gezzare un po' di più il nostro modo di guardare la realtà. Come dicevi, da più di vent'anni tu lavori in questo settore. E nel tuo libro percorri le tappe, no? Una di queste tappe è nel 2010, quando tu scrivi nel libro, vi si pone davanti una scelta, a voi rappresentanti delle cooperative che in quel momento siete riuniti in un consorzio. Che è quello, andiamo avanti in mezzo alle difficoltà economiche, alle mille difficoltà che questo settore vive da sempre, no? Anche perché è retto, per tanta parte, sul volontariato o quasi? Oppure molliamo e amen? Cos'è che va spinto? Quella volta tu dici, racconti nel libro, che in quel caso tu eri il più giovane dei quattro, se non erro, che poi decidono ad andare avanti. Guardi gli altri tre, che invece sono veterani della cooperazione, e dici, beh, se dicono loro sì, lo dico anch'io. Sì, è stato un momento, secondo me, emblematico, che ricordo ancora nitidamente. C'è proprio un capitoletto, il più breve, dei capitoletti del libro che lo racconta. Ora, parto da questo presupposto. Ogni organizzazione attraversa dei momenti di crisi. E se vogliamo, a ogni persona attraversa i momenti di crisi. Dal mio punto di vista, l'organizzazione ha in qualche modo a che fare con certe dinamiche che riguardano la persona stessa. Dall'altra parte, credo che i momenti di crisi arrivano in tutti noi, persone e anche le nostre organizzazioni, quando magari anche inconsapevolmente abbiamo la capacità di poterle risolvere queste crisi, facendo dei passi evolutivi, facendo dei passi in avanti. Io credo che quella crisi nel 2010 è proprio arrivata, perché lo testimonia in realtà dove siamo oggi, perché in qualche modo ci ha sfidato nel dire, ok, chiudiamo tutto, ok, lasciamo perdere, era un momento di difficoltà economica, nel consorzio se ne erano andate diverse cooperative e ne erano rimaste poche. Non c'era una visione chiara, comune a tutti. Davvero all'ODG, al primo punto, c'era la chiusura, ok? Con tanto di quantificazione del costo di questa cosa, per ogni cooperativa che era rimasta dentro. Alzano la mano tre cooperatori di prima generazione, che le cooperative le avevano fondate negli anni 80, quando ancora non c'era la legge che le ha in qualche modo normate, esperienze nate da spinte a metà tra il volontariato e la necessità di poter costruire un lavoro, i primi lavori della cura, diciamo, no? La mia cooperativa da cui arrivo è nata sulla spinta di due bisogni forti, l'assistenza scolastica ai disabili, che ai tempi non c'era, e l'assistenza domiciliare agli anziani, tanto per capirci. Questi cooperatori alzano la mano e qualcosa dentro di me si muove. Perché prima avevo vissuto già delle esperienze da cooperatore, ho lavorato per tanti anni nei progetti di sviluppo di comunità con giovani e adolescenti nei comuni dell'ambito di Morbenio, avevo fatto delle esperienze con la disabilità, ma prima ancora c'era qualcosa che mi aveva assegnato, in qualche modo, fin da quando ero ragazzo, cioè questa forte attrazione verso la comunità, verso ciò che è comunità, verso ciò che è la condivisione di beni comuni insieme agli altri, no? E loro ho alzato la mano anche io e ho detto, no, ci sono anch'io. Cioè, se l'alzano loro tre, che sono un po' dei miei miti, per me sono dei bluesmen del Delta, del Mississippi, o della foce dell'Adda, ok? Per essere più vicini a noi, l'alzo anch'io. È come se avessi sentito un'energia inaspettata che in qualche modo mi ha chiamato di rialzo la mano. Da quella alzata di mano, poi, con il tempo, ho acquisito anche il ruolo di presidente, per poi diventare invece direttore. Oggi il consorzio aggrega 16 cooperative sociali in un ecosistema bellissimo, perché stanno insieme cooperative sociali molto piccole, che fanno, come dire, poche attività e cooperative molto grandi per il nostro territorio, ma in totale fanno 1.600 lavoratori, di cui più di 300 sono svantaggiati, certificati, che probabilmente non avrebbero trovato opportunità di lavoro in altre aziende, ma grazie alla cooperazione sociale si offre questa opportunità. Quindi i numeri sono importanti. Quando li abbiamo visti, insomma, negli ultimi anni, ci siamo detti, caspita, c'è una massa critica importante e comunque stiamo contribuendo in qualche modo allo sviluppo del nostro territorio, magari occupandoci di problematiche sociali, di fasce deboli della popolazione, di bisogni, come dire, che abbiamo narrato prima, importanti, però ecco ci siamo. Ecco, vi fatti riferimento adesso al fatto che date impiego, occupazione, anche a persone svantaggiate. Nel libro parli di un progetto che ha questo riguardo, ha lavorato in maniera incisiva, che è Più, 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 Segni Positivi, no? Che nasce nel 2015 e tu lo porti come esempio di un'esperienza di alto valore in questo senso. Cosa è che ha permesso il successo di quel progetto che, proprio come dici tu, ha senso perché si rigenera negli anni e viaggia da solo dopo che è stato avviato con una progettazione, diciamo, fatta a tavolino, poi però è cresciuto. Cosa gli dà questo valore? Guarda, io continuo a ripensarci e c'è proprio appunto un capitoletto dedicato a quell'esperienza lì. È durata dal 2015 al 2018, quindi da un punto di vista della forma, quel progetto è iniziato e è finito, ma oggi è diventato una pratica, un processo, un programma territoriale. È nato sulla spinta di Fondazione Cariplo, che dal mio punto di vista, in maniera molto lungimirante, nel 2014 ha fatto uscire questo bando welfare in azione in cui cambiava un po' la modalità di finanziare interventi in ambito sociale. Diceva praticamente, dovete fare progetti di sistema aggregando le forze tra pubblico, volontariato, cooperazione, privato sociale, dovete coinvolgere la comunità, ok, ma anche arrivando ai singoli cittadini e dovete fare azioni innovative. Lo dovete fare su delle aree scoperte e la povertà era. Assolutamente in quegli anni cominciavano ad arrivare i primi segnali. Era un problema che stava nascendo e crescendo. Tutt'oggi c'è un problema di risposta a chi si trova in condizioni di povertà o di vulnerabilità sociale, che è quella condizione che sta un po' sopra, che ci fa stare un po' sulla linea di galleggiamento, ma che ci può far scivolare in condizioni di maggiore fragilità e difficoltà. Sto facendo riferimento a persone che, a famiglie che si separano, a persone che perdono il lavoro, a persone che non ce la fanno da un punto di vista economico a reggere, diciamo, il costo della vita, a persone che vivono eventi traumatici o traumatizzanti che portano la condizione della famiglia che sia di giovani, di anziani, eccetera, eccetera, in difficoltà. I numeri parlano chiaro, lo dicono a livello nazionale, è una ripercussione che c'è anche qui nel nostro territorio, anche se siamo in pochi, anche se apparentemente siamo una provincia che sta bene. In realtà ci sono dei fenomeni e tra l'altro sono dei fenomeni che hanno delle loro peculiarità. Per esempio, c'è una fetta di popolazione che chiede aiuto ai servizi, c'è una fetta che non chiede. Perché non chiede? Ce lo siamo posti tante volte come domanda. Perché in un territorio come il nostro è difficile. Perché siamo in una condizione per cui siamo in pochi. L'anonimato non esiste. Chiedere aiuto non è così semplice. Piuttosto mi tiro il collo, o insomma aspetto e attendo e non lo faccio. Il progetto che abbiamo creato ci ha dato la possibilità di uscire dal blues e di stare lì e provare a guardare le cose con una certa dosi di libertà. E allora la metafora che mi viene spesso è quella della mongolfiera. In quegli anni abbiamo preso una specie di mongolfiera simbolica, ok, metaforica, e abbiamo ragionato non solo in termini orizzontali ma in termini verticali, guardando i problemi anche dall'alto. E non solo da un punto di vista orizzontale. Perché da operatori sociali siamo abituati a guardare le persone di fronte, le persone che ti chiedono aiuto. E quindi a ragionare di strumenti in modalità classiche standardizzate di risposta, anche un po' assistenziali. Alzando lo sguardo abbiamo visto innanzitutto che i problemi erano diversi, non c'era solo un problema, non c'era solo quelli che venivano a chiedere. In realtà il fenomeno era più diffuso e più sfumato. Che c'era una povertà, una vulnerabilità non solo legata alle persone ma anche ai gruppi, alle organizzazioni, ma anche al territorio. Per esempio, il territorio stesso nostro è vulnerabile. Perché, per esempio, se pensiamo a problematiche tipo lo spopolamento dei paesi, piuttosto che l'abbandono del territorio che genera dissesto nei boschi, la mancata manutenzione del patrimonio ambientale e boschivo, sono tutti elementi di vulnerabilità. Allora, abbiamo messo insieme lo sguardo che questa mugolfiera ci ha consentito di acquisire e abbiamo pensato delle risposte un po' innovative. Cioè, non abbiamo fatto la classica risposta assistenziale verso coloro che si manifestavano e manifestavano un bisogno. Abbiamo creato realtà, iniziative come l'Emporio Solidale, il Sondrio, che adesso, tra l'altro, si è replicato. Si è replicato. Abbiamo creato delle squadre di lavoro dando lavoro a persone che il lavoro l'avevano perso, che hanno recuperato sentieri, che hanno recuperato aree agricole abbandonate, il famoso vigneto di Castione, che hanno recuperato beni abbandonati, beni comunitari abbandonati, strutture, luoghi significativi e l'abbiamo fatto in un assetto davvero collaborativo, molto alla pari, oggi si chiama coprogettazione, tra l'ente pubblico, la cooperazione e il volontariato. Siamo partiti coinvolgendo e lavorando sull'ambito di Morbenio con un grandissimo coinvolgimento anche dalla parte pubblica e poi questi segni positivi che abbiamo un po' diffuso si sono a loro volta diffusi e oggi sta diventando un programma provinciale con un partner importante e forte che è la nostra fondazione comunitaria che è Pro Valtellina. Siamo quasi in chiusura della nostra chiacchierata che è stata molto interessante fino ad ora. Volevo chiederti una cosa. Cosa pensi in generale della cooperazione che tu hai applicato anche alla tua vita mi viene in mente anche oltre alla nascita nella tua piccola comunità della via Gand a Morbenio che ti ha formato sicuramente come forma chiunque nei primi anni di infanzia come sta ad oggi visto che ci lavori da più di vent'anni la cooperazione sociale in provincia e come può contribuire a dare sviluppo al nostro territorio anche sulla base di questi esempi che ci hai portato e che lo dimostrano La cooperazione a mio avviso sta bene ed è in un momento particolarmente vivace nonostante alcune sfide problematiche forti che continuiamo a dirci ma se ci astraiamo e guardiamo le cose da una prospettiva di sviluppo la cooperazione è uno strumento che è quello che sostengo nel libro per far evolvere i territori attenzione distingo la forma cooperativa come organizzazione dalla cooperazione spesso noi ci occupiamo troppo di cooperative e di organizzazioni che devono stare in piedi fare i loro servizi e un po' meno di cooperazione nel libro dico dovremmo diventare degli agenti di cooperazione coloro che sanno osservare quando avviene quando accade la cooperazione quando questa è talmente propulsiva e generativa abbiamo un sacco di esempi non solo nel nostro mondo sociale anzi anche in altri campi di lavoro quando questa in qualche modo genera dei cambiamenti dovremmo imparare a costruire maggior coesione perché secondo me ci manca questa skill qua dobbiamo riuscire a svilupparla nel territorio cioè serve costruire coesione tra organizzazioni tra mondi tra campi tra aree di lavoro il sociale abbiamo visto le esperienze migliori ha funzionato quando è dialogato anche con le altre politiche il turismo l'ambiente gli esempi che facevo prima il lavoro lo sport e si generano progetti e attività bellissime non dobbiamo dimenticarci però della comunità io non credo nella ritorica che la comunità non esiste più e che non ci sono più le comunità del passato per cui i paesi eccetera eccetera no oggi secondo me esiste la comunità ne siamo immersi dobbiamo imparare a capire a vedere a tracciare la nostra mappa comunitaria noi siamo inseriti in tante dinamiche comunitarie io faccio parte di tante piccole comunità reali e virtuali ok il problema è che non ce ne accorgiamo e che non diamo valore a questa cosa ma come nella via ganda per me dove si è formata la mia mappa comunitaria cioè da lì la mia mappa si è espansa e io penso di stare in tanti dinamiche comunitarie e di averne assolutamente bisogno se no come dire non evolverei come persona come uomo come abitante di questo territorio che è così bello e così particolare e quindi alla fine dico che la cooperazione è in qualche modo speculare alla comunità non esiste cooperazione se non ci sono dinamiche comunitarie non esiste comunità se non si agisce la cooperazione come pratica tu dicevi fai parte di tante piccole comunità tra quelle che conosco io oltre a quelle tue personali sicuramente c'è quella sociale una comunità di tipo sociale e una comunità di tipo artistica esatto e convivono insomma si sente molto questa questa impronta come tieni l'equilibrio è difficile per anni io ho tenuto queste cose completamente scisse ma non posso fare l'operatore sociale e il cantautore dall'altra parte ci sono due cose separate la poesia la musica in realtà forse con l'età ho capito che in realtà invece bisogna trovare un'armonia dentro questo apparente conflitto di fatto io mi sento per esempio con questo libro ma con altre con altri progetti che sto sviluppando all'inizio un po' di un sentiero e come tu ben sai quando intraprendiamo i nostri bellissimi sentieri di montagna è già bello partire ok e quindi la via per me è quella di trovare un'armonia dentro questo apparentemente conflitto e contaminare queste mie due anime quella del cooperatore sociale quella del artista cantautore non so come definirla in maniera creativa nuova come dire no dandomi e concedendomi degli spazi di libertà che per anni mi sono un po' come dire frenato ecco allora ti auguro di continuare a tenerla questa armonia grazie ti ringrazio di essere stato con noi grazie è stato molto bello grazie a te a tutti voi auguro una buona serata e l'appuntamento alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti a tutti grazie a tutti Grazie a tutti